Torna il campionato e dopo il recupero di domenica scorsa contro il Fossombrone, il Vasto Girardi giocherà nuovamente con il favore del campo, ospite di turno il Monte Rotondo. Terminata a reti bianche, la sfida di domenica scorsa ha regalato un punto alla truppa altomolisana e ancora una volta ha sottolineato il buon lavoro che l'intero gruppo sta svolgendo, offrendo una prestazione di tutto rispetto. La situazione continua ad essere però molto delicata con il Vasto Girardi che attualmente risiede in penultima posizione ed il buon gioco continua a non essere accompagnato dal successo che manca da lontano 6 dicembre. Domani sarà fondamentale l'approccio alla gara in un'altra di quelle partite dal peso che va oltre i tre punti. La squadra di Patron di Lucente dovrà essere brava a sfruttare anche il momento no del Fano, la sua diretta concorrente, la quale tra l'altro giocherà la sfida contro il notaresco mercoledì 21 febbraio. Assente di giornata il preziosissimo capitano Sergio Ruggeri, il quale dovrà scontrare un turno di squalifica. Per il resto tutti a disposizione di mister Marmorini che potrebbe riproporre l'undici visto in opera contro il Fossombrone. Casacca numero 1 per Servalli, difesa composta da Tocco, Visani, Fili e Panaro. Al centro del campo Anto Giovanni, Cecuzzi e Iacullo, in avanti Caon, Ramos Lopez e Fontana. Inutile dire che sarà di fondamentale importanza l'apporto del pubblico sempre presente in occasione delle sfide interne. Il Monte Rotondo arriverà in Molise con la voglia di dare continuità all'importante successo ottenuto prima della sosta sull'Atletico Ascoli. Una vittoria che ha rilanciato fortemente le quotazioni della squadra laziale per la salvezza, permettendo alla formazione di Polverini di risalire al quarto ultimo posto. Alditella, con fischio d'inizio alle 14.30, lo scontro diretto tra Vasto Girardi e Monte Rotondo sarà diretto da Bruno Tierno di Sana Consilina, assistito da Matteo Di Berardino di Teramo e Nicola Monaco di Sala Consilina.